Si celebra la giornata internazionale degli infermieri. Prima di oggi quanti sapevano che il 12 maggio è la giornata dedicata a questa professione? Sicuramente in pochi i diretti interessati e di loro familiari. Oggi invece tutti hanno un pensiero per gli infermieri nella giornata loro dedicata. La terribile pandemia ha messo al centro questa categoria in primo piano nella cronaca giornaliera per il servizio che queste persone stanno dando all'intera comunità per combattere il coronavirus. Mentre si contano migliaia di infermieri contagiati e decine di morti, il Papa stamani ha dedicato loro una preghiera parlando di una professione che è qualcosa di più di un lavoro, è una vocazione. Hanno dato esempio di eroicità. Effettivamente gli infermieri si sono dimostrati la spina dorsale del sistema sanitario italiano e mai nessuno, neanche loro, avrebbe mai pensato di sentir parlare così tanto di questa importante professione. L'infermiere appartiene a quella figura che lavora in sordina ma che grazie alle competenze e alla professionalità fa grandi cose per i cittadini. E c'è voluto il coronavirus per farci ricordare di chi ogni giorno aiuta gli ammalati e non solo in tempo di covid. Qualcuno potrebbe dire stanno facendo il loro lavoro. Chi lo fa evidentemente dopo due mesi non ha ancora capito cosa è accaduto e cosa ancora accade negli ospedali che senza gli infermieri ed ovviamente i medici non avrebbero potuto mai reggere fino in fondo allo tsunami sanitario che si è battuto sul nostro paese. Allora in questa giornata diciamo ancora grazie agli infermieri irpini ma non solo. Auguriamo una pronta guarigione all'Oreo e ai medici che per salvare vite umane hanno contratto il virus e lo stanno combattendo da un letto di ospedale con un particolare pensiero rivolto a chi non è riuscito a vincere la battaglia contro il covid ed è praticamente caduto sul campo.